salve a tutti benvenuti in questo video tutorial oggi vi insegnerò a scendere 214 gradini per incominciare pensate alla gamba sinistra questa ci avete pensato bene adesso muovete la in avanti inclinando il ginocchio di 60 gradi poi pensate alla gamba destra ci avete pensato fate lo stesso movimento evitando di rimanere in equilibrio è ok adesso pensate alla gamba sinistra e destra fino a arrivare alla fine degli gradini riempi l'acqua è la fontana che hanno fatto in memoria di Michelle posso bere certo il tuo squirt questo era un esempio almeno puoi affrontare meglio gli scalini cazzo è facile scendere le scale però perché dobbiamo partire con la sinistra signor Christian ok siamo arrivati punto di osservazione a circa 170 gradini punto di osservazione a circa 40 gradini mi tuffo mi tuffo 15 metri vuol dire che sta qua è vero la cocca di tua mamma basta con mia mamma ma scusa che è schifo noi abbiamo pagato per questo vedo una cosa arancione che è un uomo dove vedo una cosa colorata là oddio è ingorrato alla gina no proseguiamo no questo è tutto grazie alle balle di pia aaaah si cuore ho messo a fare gli scalini correndo aspetta questo non ce l'ho spiegato eh raga quello è al secondo video pover prima 10.000 visualizzazioni 80 milioni di mi piace e dopo esce la seconda fa ok forse perde i tempi wow che figo grazie a tutti